Dopo l'ottima prova di Canazzaro l'imperativo è dare continuità, ospite ai Biancazzurri, la Virtus Francavilla che in trasferta ha raccolto soltanto 6 punti, Zeman conferma per 10 undicesimi la squadra, scesa in campo nelle ultime due uscite, l'unico cambio in difesa, Cancellotti per Crescenzi per contro 3-5-2, pesante l'assenza di Patierno, 17 golle in campionato, tre pali gioca l'italo-canadese Millie al debutto stagionale, classe 2000 davanti, Maiorino alle spalle dell'islandese Carlson, preso a gennaio in prestito dal Venezia, Murilo parte dalla panchina al pari di Cisco, altro ex di questa partita, cioè Minelli difensore centrale, 24 presenze nella formazione primavera del Pescara, stagione 2017-2018, l'arbitro e il signor Tarricone della sezione di Perugia si comincia così, la Virtus sembra anche intraprendente e aggressiva nei primi 10 minuti, però insomma il Pescara ci mette poco per sbloccare la situazione, c'è questa verticalizzazione di Lescano per Merola, il tocco elegante a deludere Solcia, fallo da rigore netto, ammonito il numero 13, classe 2000, difensore Solcia in prestito dall'Atalanta, bello il tocco di Merola a eludere l'intervento dell'avversario, calcio di rigore sul punto di battuta, ammonito appunto il numero 13 della squadra ospite, sul punto di battuta c'è Facundo Lescano, uno contro uno, naturalmente con Millie al debutto stagionale, la rincorsa di Lescano che spiazza l'estremo difensore pugliese, uno a zero Pescara al decimo minuto nel corso del primo tempo è già festa sugli spalti, questo è il gol numero 15 in campionato per l'attaccante italo-argentino, che ugualia il primato stabilito nella stagione 2016-2017 con la maglia della nuova Ijea Virtus, formazione siciliana in serie di record che sarà battuto in questa partita, il primato personale arriverà tra poco per Facundo Lescano, uno a zero al decimo minuto, sarà un monologo biancazzurro, da parte della squadra di Zdenek Zeman che esulta sotto la curva nord, c'è il giropalla Palmiero che è stato recuperato a tempo di record, poi Merola che taglia sempre verso il centro, elude l'intervento di capitana Caporale, poi incrocia Palorete, due a zero Pescara al quattordicesimo minuto, nel corso del primo tempo grande prestazione di Merola, quinto gol in campionato, Merola adesso rivedremo che si accentra sempre tra le linee, elude l'intervento di Caporale e poi incrocia, nulla da fare per Millie, Paolo Rete, un gran sinistro a Pelloderma, potremmo dire così, da parte del 30 biancazzurro, classe 2000, ex giocatore del Foggia, è stato l'indipendenza proprio di Zemano lo scorso anno, 9 gol più 1 nel playoff, 10 in totale nella scorsa edizione del campionato di Serie C. Siamo al quattordicesimo, Pescara a due, Virtus Francavilla a zero, poi Palmiero in profondità per Colai, faccia a faccia con Millie, parata stile futsal per l'estremo difensore pugliese, però avrebbe potuto fare meglio il giocatore italo-albanese che comunque ha giocato un'ottima partita, da qui va avanti, palla al piede, appunto non viene affrontato nessuno, apre il destro, o meglio arma il destro che si infrage sul palo, poi ci prova Craia, la sua conclusione viene ribattuta in calcio d'angolo da una difensore della Virtus Francavilla, rivediamo il gran destro di Colai, Colai 1 contro 1 con Solcia, entra in area, alza la testa, palla in mezzo, controllo col sinistro, col destro e sinistro che trafigge il portiere della Virtus Millie da parte di Merola, tutto questo al minuto 43-44 nel corso della prima frazione di gioco, e questa è la doppietta personale per Merola, rivediamo l'azione, alza la testa, fa tutto molto bene Colai, e poi il suo assist che viene sfruttato, la perfezione dal 30-30, Biancazzurro, sono sei gol in campionato per Davide Merola, tutto questo al 44esimo, neanche un giro di lancette, arriverà il quarto gol, praticamente la partita si chiude qui, vediamo. Allora, il pallone giocato da Craia per Raffià, il suo destro non è impeccabile il portiere Millie, il tap-in vincente di Facundo Lescano, sono 16 in campionato, 45esimo per Scara 4, Virtus Francavilla 0-16 in campionato, primato personale per l'attaccante italo-argentino, rivediamo l'azione da Craia a Raffià, 16 metri il suo destro, ripetiamo, non perfetto l'intervento di Millie, l'italo-canadese che faceva il suo debutto in questo campionato, una sola presenza lo scorso anno, sempre nella Virtus Francavilla, il tap-in di Facundo Lescano, che sfrutta la grande opportunità, doppietta, altri due gol per Facundo Lescano, sono sette nelle prime sei partite della gestione Zeeman, in grande condizione Facundo Lescano. Siamo ora nella ripresa, ci sono stati degli avvicendamenti, è entrato anche Murilo, il pallone giocato dalle parti di Cisco e poi il tentativo di Carlson, sotto misura, alza la mira, insomma era più difficile sbagliare questa opportunità, tra l'altro è uscito al 54esimo per infortunio Plizzari, è entrato al suo posto Sommariva, che qui va a bloccare il pallone sulla linea, sul tentativo di Idda, è entrato anche lui in corso d'opera, ex Cosenza, difensore esperto, è giocato nel Cosenza con Palmiero, vincendo un campionato nel 2018 della C1 alla Serie B allenatore Piero Braglia, e qui c'è la grande acrobazia sugli sviluppi di un calcio d'angolo del neo entrato Murilo, reattivo il portiere della formazione Biancazzurra, Daniele Sommariva, arrivato dal Monza in estate, classe 1997, rivediamo stilisticamente perfetta la conclusione al volo del classe 95 ex Livorno, poi questa azione del Pescara molto bella, Merola lo scambio con l'Escano e poi il gol di Mora, tutto vano però reso vano dall'assistente che opera sotto le tribune, dalla segnalazione, quindi gol annullato, questo era un gol fantastico che però è stato annullato poi dalla direttore di gara Taricone della sezione di Perugia, vediamo ancora Merola, il velo di Mora che poi va a ricevere proprio l'assist di Facundo Lescano, tutto molto bene, tutto molto bello, qualche dubbio c'è in realtà. E qui invece c'è il gol del 4-1, la torre di Idda per Murilo, il controllo con il petto, il gioiello del giocatore brasiliano, doppia nazionalità in realtà Brasile-Spagna, classe 1995, maglia numero 31 e questo è il gol numero 8 in campionato per Murilo, anzi il gol numero 7 per il giocatore entrato in corso d'opera, nulla da fare per Sommariva, davvero un gran bel gol applaudito dai tifosi biancazzurri, tutto questo all'ottantottesimo, infatti ringrazia Murilo per gli applausi che arrivano dagli spalti, 4 in minuti di recupero, non accadrà altro, c'è quest'altro tentativo della formazione ospite, ne pare a terra all'altezza della sua area di competenza. Nel salvo difensore del Pescara Sommariva che aveva preso il posto dell'infortunato Pizzari al minuto 53-54 nel corso di questa partita, dunque il Pescara cala il poker, applausi e soprattutto tanti complimenti alla formazione biancazzurra che incrementa il vantaggio sulle quarte, Pescara batte Virtus Francavilla, 4-1.